Settimana Santa in Sicilia di nuovo con le sacre celebrazioni che prevedono dopo due anni il concorso del popolo verso la Domenica delle Palme e ce ne parla padre Giuseppe Grignano, parroco di San Giuseppe e Sant'Antonio da Padova a Castellammare del Golfo. La risposta a questo ritorno alla normalità nella Settimana Santa è positivo perché era aspettato da tanti e da tutti. Per tanti, ma anche per noi presbiteri, ritornare a celebrare con tutte le dimensioni che la celebrazione porta con sé è questione di gioia, ma è anche questione di una maggiore serenità, di sapere che finalmente si può ritornare ad assoporare la Settimana Santa con quella bellezza che è la liturgia porta con sé. Siamo davanti a una situazione nella quale vediamo sempre di più come l'egoismo che si annida nel cuore dell'uomo veramente crea sempre più lacerazioni, difficoltà e discordie. La pandemia da un lato lo ha fatto emergere, nonostante anche tanti segni di solidarietà, ma questo germe di egoismo c'è e ora la guerra lo sta facendo emergere ancora di più. Un momento difficile, dopo la pandemia viverà anche ora il tempo della guerra con tutte le difficoltà che porterà e che sta portando, anche per tutte le ripercussioni sociali, economiche che la guerra porta con sé nel resto dell'Europa. Viviamo dentro questa Settimana Santa sicuramente la speranza di poter vedere come l'unica cosa che può vincere l'egoismo e che può vincere i risvolti negativi, le volte della nostra umanità che si lascia toccare dal peccato è proprio l'amore di Gesù che è pronto a donare tutto di sé, che ci ricorda che è dentro quest'amore che anche noi esseri umani possiamo vivere pienamente la nostra umanità e riconciliarci con noi e con i fratelli. La pandemia ci ha fatto sperimentare come siamo interconnessi, quello che ha fatto anche emergere questo sfondo forte di egoismo. Tante persone che pensano solo a se stesse e soltanto al proprio interesse, sia economico sia di vita, forse qualcosa è migliorato nella nostra società, ma dall'altro dobbiamo comunque anche notare come tante altre cose invece forse si sono accentuate. Poi rimane il grande dilemma di quello che saremo chiamati ad affrontare con le nuove generazioni. Tutto quello che la pandemia ha creato nella vita psicologica e sociale delle nuove generazioni ancora non lo sappiamo. Le difficoltà che affioreranno le incontreremo nei prossimi anni, sicuramente queste saranno delle sfide grandi per noi educatori. In questa settimana santa il Signore sicuramente ci insegna che ciò che vince tutto è l'amore, quest'amore che sa donare tutto di se stessi e sa togliere quel principio di egoismo per invece mettere al centro il bene, il bene dell'altro. L'augurio che forse siamo chiamati a farci l'uno all'altro e che possiamo vivere una settimana e scoprire quanto l'amore di Dio ci apre alle relazioni e al bene delle relazioni. In questa settimana riprendere anche tutto quello che la pietà popolare così ricca del nostro territorio porta con sé è anche un modo per rimettere al centro il bene dell'altro e la voglia di stare insieme che mi riporta a guardare agli altri e non soltanto a me stesso e ai miei capricci.